Grazie a tutti per essere qui presenti. Grazie a tutti per presentare il testo di Tamar Pitch, Il malinteso della vittima, con Ilaria Baraldi, consigliera comunale, con Vincenzo Scalia, professore di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Firenze, e ovviamente con l'autrice Tamar Pitch, professoressa di filosofia e sociologia del diritto, che avete comunque già avuto modo di conoscere, e esperta di femminismo giuridico, di sociologia giuridica della devianza, di questioni criminali e di diritti fondamentali di genere del e nel diritto. Io ho completato la lettura di questo testo nel corso delle ultime settimane, che sono state settimane un po' impegnative. È un testo evidentemente che già dal titolo allude ad un malinteso, ad un fraintendimento, ad un equivoco, che mi pare di comprendere al contempo linguistico, sociologico e giuridico. Ovviamente queste dimensioni sono straordinariamente interconnesse e dunque nel testo vi è un approfondimento storico, ma io direi anche in qualche modo di storia concettuale, nella misura in cui si analizzano alcuni significati e alcuni lemmi che sono mutati nel tempo e lemmi e parole, a partire ad esempio dalla sicurezza, insomma, che prima indicavano alcune realtà e hanno terminato con l'ospitare significati diversi da quelli che invece in precedenza ospitavano. Contribuendo anche alla costruzione di un senso comune, se vogliamo, giustizialista, al quale stiamo tutti assistendo, particolarmente con le crudescenze degli ultimi anni, che criminalizza una serie di fenomeni sociali, di comportamenti sociali, anche attraverso un ricorso, potremmo dire, alterato e distorsivo al diritto penale, talvolta anche al diritto amministrativo, nella misura in cui si sono attivate in alcuni contesti amministrativi, anche dinamiche sanzionatorie, a volte a punire alcuni comportamenti sociali ritenuti, se vogliamo, indebitamente degradanti e degradati. Ecco, di tale tensione, se vogliamo, all'iperpenalismo risentono anche quei contesti collettivi, e questa è una riflessione interessante che il testo contiene, che magari anche molti di noi frequentano e che si adoperano appunto per l'estensione dei diritti, per la riduzione delle diseguaglianze e per il superamento anche di ogni forma di discriminazione ghettizzante e marginalizzante. Ecco, mi piacerebbe prima ovviamente di passare la parola agli altri relatori e magari prima di animare anche il dibattito con qualche domanda e qualche altra riflessione, insistere sul fatto che assumere la sintassi connotativa delle vittime e dunque anche la retorica punitiva imperante determina molte distorsioni e le derive che ne discendono complicano costantemente le nostre esistenze in un contesto giuridico che è già di per sé classista, in un contesto carcerario alludendo appunto al carcere come principale pena moderna, che è di per sé classista e ha un prevalente sociale molto connotato ed evidente a noi tutti e questa sintassi allude anche ad una definizione della realtà in cui molto spesso legalità formale è completamente distinta dalla giustizia e la rilevanza della figura della vittima e della narrazione che ci restituisce appunto una sorta di dicotomia tra vittime e carnefici rivela l'egemonia indiscussa della logica penale. Lo statuto di vittima nel testo viene riportato molto chiaramente consente anche se vogliamo sì alcuni riconoscimenti politici e sociali ma che in realtà disperdono l'elemento politico nella misura in cui discendono in realtà da una matrice sistemica di oppressione che l'utilizzo di questa narrazione vittimizzante disperde completamente evocando piuttosto danni o torti subiti e compiuti dai singoli quindi attivando anche una dinamica sociale parcellizzante e classificante secondo un paradigma vittimario che impone anche gradi di intensità diversi all'essere vittima quindi una classificazione particolarmente problematica in una contrapposizione che favorisce una visione etico-morale del tutto manichea come Tamar Pitch chiarisce nel testo che talvolta accoglie e credo che nella fase comunicativa, iper comunicativa attuale sia particolarmente evidente anche alcune alterazioni narcisistiche della sofferenza che appunto deresponsabilizzano la politica l'identitarismo e anche il differenzialismo riposano in parte su questo paradigma e penso che questo sia un aspetto che verrebbe la pena approfondire poi con l'autrice autorizzando quelle che da lei vengono definite anche rivendicazioni orizzontali che molto spesso obliterano quelle che invece sono le disparità che sono prodotte da un modello politico ed economico dominante quindi alludo alle disparità ovviamente economiche e sociali che originano una condizione di diseguaglianza strutturale appunto e sistemica oltre anche a passivizzare le porzioni di società destinatarie di determinati comportamenti attraverso la vittimizzazione ecco, la soggettività politica che viene reclamata attraverso questa grammatica penale eleva la giustizia penale a risoluzione di ogni problema ma questo diciamo anche provvedimenti recenti ci pare che vadano insomma nella direzione di una sclerotizzazione di questo tipo generando ovviamente stereotipi, capri espiatori come dicevamo dinamiche punitive e certamente non risocializzanti che alimentano un populismo penale che è diffusissimo e una giustizia profondamente riparativa che vede tutti come potenziali vittime da cui discendono appunto criminalizzazioni della marginalità ma anche la suddivisione in meritevoli ed immeritevoli che è ampiamente pervasiva e in tutto ciò l'evocazione del potenziale simbolico del penale nel senso del divieto e anche del proibizionismo punitivo introduce dispositivi di sicurezza e politiche securitarie che certamente non sono sorte nelle ultime settimane ma ci restituiscono una dinamica che si è sviluppata nel corso almeno degli ultimi tre, anzi forse direi quattro decenni quindi a me piacerebbe ovviamente poter approfondire con l'autrice questi aspetti che mi paiono la spina dorsale del testo darei poi la parola a Dilaria per verificare se eventualmente vuole approfondire anche alcuni aspetti alcune declinazioni specifiche delle marginalità e anche della criminalizzazione delle marginalità poi procederei con Vincenzo e concluderei ovviamente con Tamar aprendo ovviamente il dibattito e chiedendo al pubblico se vuole interagire su aspetti specifici e consegnarci delle sollecitazioni Buonasera a tutte e tutti grazie Irene per l'introduzione io sono venuta qua oggi pomeriggio portandomi dietro anche il precedente libro uno dei precedenti libri di Tamar Piccia che è contro il decoro del 2013 ma che io lessi nel 2017 e rileggendo alcuni passaggi ora con la prospettiva che avevamo nel 2017 soprattutto in una città come Ferrara dove è stata molto utilizzata dalla retorica politica il securitarismo e la paura come strumento prima di propaganda e poi di governo si ha davvero l'impressione che contro il decoro faccia un po' da premessa e da primo capitolo di quello che poi è l'approfondimento che troviamo oggi nel libro Il malinteso della vittima cioè questo tentativo di costruire le città gli spazi pubblici i luoghi fisici e non solo come qualcosa di estremamente pulito di estremamente quasi igienizzato quasi candido anche visivamente in modo che nulla possa infastidire lo sguardo del turista del residente degli spazi residenziali quella classe bene che viene irritata se le città vengono condivise abitate vissute da altre persone che nella retorica recente ci hanno abituato a ritenere pericolose, indegne e ovviamente in questa cornice possiamo fare riferimento alle persone che migrano alle persone che restano senza casa alle persone che chiedono l'elemosina prima Irene faceva giustamente riferimento alle azioni amministrative che non soltanto a livello nazionale ma anche a livello locale i sindaci hanno a disposizione e ahimè sindaci indistintamente di destra o di sinistra utilizzano appunto per allontanare dagli sguardi dei benpensanti tutto ciò che può infastidire basti pensare all'utilizzo del daspo urbano nei confronti dei migranti o delle persone senza tetto quindi c'è questo spostamento di un problema evidentemente sociale che andrebbe affrontato attraverso una lettura del contesto sociale ed economico verso una lettura che è esclusivamente giudiziaria di rimozione del problema quindi non di comprensione delle ragioni che portano una persona ad esempio a non avere la casa e a capire per quale motivo non ha la casa e ad aiutarla a uscire da una condizione di bisogno ma rimozione nel senso toglietemela dalla vista che così io non penso che il problema sia risolto trovo interessante che all'interno appunto del malintenso della vittima si faccia un passaggio sull'uso politico del potenziale simbolico del penale e che lo si faccia attraverso due esempi che hanno molto a che fare con i movimenti femministi ci sono due grandi temi che vengono attribuiti da Tamara al femminismo punitivo attraverso la richiesta di criminalizzazione con l'istituzione di nuovi reati o l'aumento delle pene laddove i reati siano già previsti nei confronti di azioni o di pratiche che si ritengono lesive della donna o della libertà della donna in una strana poi inversione di concezione di che cosa si intende anche per libertà della donna e questi due casi che vengono citati approfonditi sono la GPA cioè la gestazione per altri e la prostituzione sono due casi molto interessanti perché come sappiamo insomma la gestazione per altri in Italia è vietata è vietata in molti altri paesi europei ma nei confronti di questa attività che peraltro storicamente insomma affonda le sue radici anche in consuetudini che si sono insomma sempre sempre utilizzate diciamo così pur non essendo regolate e regolamentate su questa su questa azione si è scatenata una vera e propria ondata ecco di diffidenza poi di odio e di richiesta di messa al bando senz'altro in Europa nel 2015 e anche ad opera del movimento se non ora quando che si è battuto per evitare che cito le donne tornassero ad essere oggetti a disposizione è un come dire un momento abbastanza delicato quello del passaggio sulla gestazione per altri perché naturalmente l'autrice non dà una soluzione a quello che si debba fare da un punto di vista giuridico o normativo ma si sofferma sulla sulla trasformazione di quello che dovrebbe essere la tutela della libertà di scelta della donna attraverso invece la sua vittimizzazione dando per scontato che la donna portatrice sia una vittima qualcosa del genere avviene ugualmente nella descrizione della di quella che potremmo chiamare prostituzione ma che insomma più correttamente potremmo definire sex work e quindi anziché prostituto utilizzare il termine sex worker lavoratrici del sesso che è appunto una definizione che possiamo utilizzare laddove riconosciamo alle persone che fanno questo lavoro la scelta di averlo di farlo mentre anche nella prostituzione c'è appunto questa tendenza alla vittimizzazione della della donna con lo scarto rispetto al fatto che se davvero la donna non è vittima quindi non è vittima di tratto non è vittima di sfruttamento cosa che evidentemente va assolutamente e vietata e punita laddove si verifichi ma nel caso in cui esistono casi in cui le donne scelgono di fare questo lavoro su di loro cade uno stigma pesantissimo perché si ritiene che evidentemente non sia pensabile né possibile voler svolgere un'attività del genere e da vittima immediatamente anche nel caso in cui siano effettivamente vittima di una violenza di uno stupro di una rapina su di esse cade diciamo la laccetta e la mannaia attraverso lo stigma e diventano immediatamente criminali e complici della diciamo dell'azione che loro stesse loro stesse compiono ecco io ho trovato interessante anche il fatto che questi movimenti femministi che si battono nei confronti si battono contro ecco queste e la gpa e la prostituzione ovviamente in questo caso sono portati come esempi abbiano una visione tendenzialmente regressiva della donna e si trovino spesso a fare campagne parallelamente spesso a braccetto con associazioni cattoliche oltransiste insomma e che tendano quindi a tutelare più l'idea della donna che la sua stessa libertà come se si parlasse della donna in sua assenza ecco cioè non viene mai di fatto preso in considerazione la libera scelta e l'intenzione della donna ma se ne tutela un'idea assolutamente teorica di soggetto che si presume debba fare certe scelte e non altre quindi trattandola anche come soggetto molto vulnerabile in una logica forse ancora molto legata a un'idea patriarcale appunto di donna io passerei in questo caso la parola a Vincenzo Scalia se ha voglia poi naturalmente dice quello che crede però siccome l'ho sentito parlare spesso di stigma e ci stiamo ci stiamo abbastanza ecco rispetto ai temi che abbiamo trattato finora gli do questo spunto rispetto al fatto che molto spesso appunto le persone che vivono le nostre città e che vengono allontanate al nostro sguardo e che molto spesso invece loro sì sono vittime di un sistema sociale che le ha spinte al margine o le ha messe nelle condizioni di trovarsi in stato di difficoltà vengano stigmatizzate e perché non rispondono ad uno stereotipo questo è uno spunto ovviamente poi tu puoi tranquillamente ampliare il discorso e il percorso ma mi sembra interessante provare a partire da qua grazie grazie a tutti buon pomeriggio dunque va bene raccolgo la sfida che diciamo così mi ha lanciato Ilaria anche a partire da un fatto da una tragedia che è successa due giorni fa sono morti 59 persone di cui 14 bambini e si parla degli scafisti dei trafficanti come se appunto alla fine prima che morti prima che persone alla ricerca disperata di un'altra vita di un altro luogo dove poter sopravvivere fossero come dire merce avariata merce di contrabbando perché su questa definizione di trafficanti di esseri umani di trafficking si gioca moltissimo la stigmatizzazione esattamente di certi gruppi marginali ecco in questo senso l'idro di Tamar è quello che in inglese si direbbe challenging qualcosa che sfida anche perché introduce qualcosa che in italia si tratta poco ma nella letteratura anglosassone c'è molto per dire se vi capita di imbattervi tranquillamente potete farlo online si trova poi è chiaro che se non avete un accesso tramite l'università è difficile farlo il giornale di human trafficking il giornale di human trafficking è contrariamente al nome è un giornale dove scrivono moltissime sociologhe criminologhe critiche femministe di solito di origine indiana africana le quali ma anche ovviamente di origine europea o nordamericana le quali dicono questo che a proposito del discorso del sex worker che ha fatto Ilaria se passassimo per esempio appunto dalla definizione di prostitute alla definizione di sex workers e si desse alle donne che vengono in Italia per esercitare la professione di sex workers il permesso di soggiorno per questo in Italia come in Europa avremmo risolto non dico tutto il problema ma tre quarti del problema qualcuno dice mettendoli in regola regolarizzandole quindi eviteremmo anche di di stigmatizzare di marginalizzare a parte il fatto che nel journal of human trafficking per esempio si fa vedere come non c'è questa catena sofisticata di traffico umano che fa capo a delle organizzazioni criminali che magari ci ricordano la spettra perché convergono molti interessi ma ci sono proprio vari ruoli che sono alla fine diciamo dei ruoli in inglese si dice manials come si dice in italiano diciamo dei ruoli secondari ecco tipo dal dalla persona del villaggio che diffonde la voce che c'è qualcuno che traffica quello che guida il camion fisicamente fino al punto di smistamento a chi poi effettua il trasporto dal punto di smistamento fino al porto sicuro sono tutte figure che non hanno diciamo un legame organico magari cementato da per così dire l'appartenenza all'organizzazione criminale ma sono tutte figure segmentarie che sono all'interno di una relazione funzionale quindi anche su questa storia del traffico ci sarebbe da dire moltissimo ci sarebbe da riflettere ma partendo da questo appunto lo stigma che cos'è se non il rovesciamento diciamo della soggettività delle persone no? perché una volta si era operai si era afroamericani si era donne tutte figure diciamo categorie a partire dal quale si esperiva una trassi collettiva di emancipazione oggi appunto o si è vittime come nota giustamente Tamar o si viene stigmatizzati si viene criminalizzati perché diciamo il quadratino che ti è stato dato lo spazio che ti è stato attribuito all'interno di questo schema della privatizzazione dei rapporti sociali quindi anche della giustizia è un quadratino che non si può oltrepassare in qualche modo è anche diciamo così il recupero in modo distorte strumentale del discorso che portava avanti la criminologia classica Beccaria quando diceva la mia libertà finisce dove comincia quella tua e viceversa cioè all'inizio la perimetrazione delle libertà individuali era finalizzata a che cosa? a smantellare tutti i privilegi dell'età moderna per attribuire un minimo di garanzie individuali oggi invece l'individualizzazione funziona esattamente al contrario nel senso di limitare l'individuo alla sfera del consumo e accettare questa condizione di inferiorità e il problema della vittima è proprio questo che la vittima è vittima nella misura in cui accetta di essere protetta perché alla fine chi era mi sembra Irene ma anche Ilario dicevano e sono 30 anni 40 anni che sentiamo questi discorsi sì e sono 30 anni 40 anni che finiamo questi discorsi il cui culmine qual è stato? l'arrivo al ministero all'interno di qualcuno che dice ma come fanno i genitori a portare sulla carretta del mare i figli siamo arrivati a questo questo ci deve fare riflettere ma perché siamo arrivati a questo perché l'idea qual è sempre quello cioè come sono sono state alimentate queste retoriche dell'intransigenza sono state alimentate proprio a partire dall'idea che gli autotoni locali siamo deboli e siamo minacciati dall'esterno e quindi se siamo minacciati dall'esterno abbiamo bisogno di qualcuno che ci che ci protegga ma per accettare di essere protetti dobbiamo accettare la nostra debolezza dall'altro più non si sfugge io posso mettere in ballo un ricordo personale ho frequentato per otto anni i salesiani e mi ricordo che il discorso che portavano avanti i tretti era proprio questo non dovete considerare le donne come un oggetto quindi possibilmente fidanzatevi solo quando vi dovete sposare a vent'anni stanno andando avanti esattamente a questo discorso diciamo si direbbe in termini femministe neopatriarcale quindi la donna va rispettata però come negando tutti gli aspetti che arricchiscono la relazionalità tutti gli aspetti soggettivi del rapporto tra i sessi o della relazione affettiva o della relazione sessuale e questo si fa proprio a partire dalla vittima la vittima è la variabile che regola queste relazioni sociali sempre più per così dire privatizzate che parlavate di Ferrara ma a Treviso c'è stato Gentilini potremmo parlare di altri sindaci ma possiamo parlare anche in Liguria delle amministrazioni che sguinzagliavano i cani contro i campeggiatori abusivi per esempio quindi la vittima fa sì che lo spazio pubblico venga distrutto venga privatizzato e fa sì che ognuno venga recluso nel proprio spazio dicevo appunto la contrazione di questa dimensione pubblica che più si contrae la dimensione pubblica da parte degli individui e dei gruppi sociali più c'è un accrescimento del potere è proprio direttamente proporzionale in qualche modo o è inversamente proporzionale più si contrae il nostro spazio l'ambito di azione più si accrescono le prerogative di chi si deve occupare di noi e quindi occupandosi di noi ci dice come dobbiamo muoverci e che cosa dobbiamo fare quindi alla fine si crea guarda a casa una specie di spirale perversa di circolo vizioso per cui il potere punisce ma punendo alimenta una domanda punitiva se la regolamentazione dei rapporti sociali passa attraverso la penalità allora la penalità sarà quella che chiederemo no? e qui la buonanima di Alessandro Baratta diceva appunto si passa dalla sicurezza dei diritti al diritto alla sicurezza chiediamo di essere sicuri ma essere sicuri la sicurezza concilia con l'inconumità fisica e l'inconumità fisica che passa sempre attraverso diciamo l'accettazione di una condizione di inferiorità all'interno di uno spazio pubblico che è sempre più privatizzato e qui la società piatta questa definizione che Tamaradotta è la migliore cioè non c'è più la costruzione di un discorso pubblico diffuso che si muove in direzione della creazione di diciamo valori ma anche finalità condivise c'è semmai una specie di lotta di bello omnes contro omnes di lotta per spazi sempre più ristretti spazi che vengono regolati al mezzo della punizione quindi tutti i piccoli gruppi o gli individui vogliono riconosciuti il loro spazio e questo diciamo decade comporta un decadimento della vita associata ma anche del discorso democratico perché appunto io ti garantisco che i discorsi certi discorsi non vengono portati avanti ad esempio io personalmente da appassionato di calcio sono assolutamente contrario ai discorsi della UEFA che fa il fair play no al razzismo sono contrario a chi diceva la nazione italiana non ha fatto il gesto di Black Lives Matter no questi sono tutti i protocolli formali tutti adesioni diciamo di facciata sarà che insomma vengo da da un'altra generazione per cui preferisco non so nel calcio i tifosi del Barcellona dell'Atletic di Bilbao dell'Olympic Marsiglia che portano avanti discorsi politici di altri tipi e che sono tuttora condivisi attorno al quale riescono a creare un discorso pubblico piuttosto che l'imposizione dall'alto del fair play dei protocolli etici c'è un nostro amico collega Vincenzo Ruggero per esempio che insegna in Inghilterra da tanti anni e io una volta gli ho chiesto ma Vincenzo scusa ma la criminologia critica inglese è concentrata alla John Moores al Liverpool ma tu perché non vai a incontrare alla John Moores e Vincenzo Ruggero mi disse il suo candore che lo contraddistingue ma scusa Vincenzo ma tu come fai a credere che portano avanti dei discorsi di criminologia critica delle persone che insegnano in un'università che è stata intestata un imprenditore perché alla fine vanno bene i discorsi siamo tutti antirazzisti siamo tutti antiomofobi siamo tutti antisessisti però le dinamiche di discriminazione di sfruttamento di marginalizzazione dietro questa patina declaratoria continuano ad andare avanti e questa è la società esattamente la società piatta non si dà al razzismo al sessismo i nomi reali che sono quelli dello sfruttamento dell'oppressione della disparità della discriminazione e su questo infatti nel libro di Tamar si trova una riflessione inarticolata perché alla fine l'unico sbocco a queste declaratorie puramente nominalistiche è sempre quello della punizione dove andiamo da qui andiamo a chiedere che chi si comporta in maniera male venga punito ma l'accrescimento della sfera punitiva è un accrescimento del potere è un accrescimento della repressione che deborda poi guarda caso nella contraddizione della giustizia riparativa che secondo me rappresenta l'altro caposaldo l'altro pezzo molto importante di questo libro di questo lavoro di Tamar cioè siamo contenti per la giustizia riparativa sì vabbè c'è l'effetto collaterale qua vedo che c'è qualche avvocato in platea magari poi gliela chiediamo agli avvocati una riflessione su questo se hanno voglia si evita la galera però appunto tanto è una questione di contratto privato e il reo è la vittima ci mettiamo d'accordo tra di noi ma allora questo insomma perché dobbiamo andare a farglielo decidere allo Stato possiamo anche tranquillamente la vittima può decidere anche di non sporgere la denuncia o di ritirarla e lì abbiamo risolto il problema oppure c'è il fatto in qualche modo di un ricatto anche morale perché io sulla giustizia riparativa mi sono sempre posto per esempio per i reati di aggressione di uomini nei confronti della donna come si fa ad applicare una giustizia riparativa personalmente io da uomo non però in certi casi la giustizia minovile qualche tentativo è stato fatto quindi ed è la giustizia minovile perché poi si comincia a livello più basso e poi questa cosa del pentimento il moralismo ma siamo sicuri che il pentimento esiste no? l'idea del pentimento è un'idea tutta italiana di nuovo riconducibile alla morale cattolica ma il pentimento è vero o il pentimento è strumentale per esempio io posso fare un esempio con un mio amico abbiamo pubblicato un libro un saggio sulla giustizia minorile a Palermo a Catania e vediamo che a Palermo ci sono delle messe alla trova che vengono applicate con più larga mano e poi andando a parlare con assistenti sociali e ci hanno detto vabbè è semplice perché le famiglie mafiose consigliano ai loro figli di far vedere che loro aderiscono formalmente a quello che gli propongono che sono dei bravi ragazzi quindi vanno a scuola fanno volontariato in questa maniera distolgono come vive l'attenzione mentre invece a Catania che c'è una maggiore criminalità di strada da parte dei giovani è più difficile mettere avanti applicare la messa alla trova quindi certe misure che sembrerebbero ricomporre il tessuto sociale a parte che come si fa ad affidare a delegare la ricomposizione del tessuto sociale alla sfera penale c'è sempre qualche cosa c'è sempre come dire una spada di damocle di tipo punitivo che pende sotto a questo tipo di ricomposizione dei rapporti è la fine della presunzione di innocenza perché qualcuno dice io vorrei battermi per l'innocenza qualcun altro dice no aspetta dichiarati colpevole che alla fine ne va dell'efficienza il sistema giudiziario e poi è possibile risolvere la situazione senza che tu vada in galera però così comunque la presunzione di innocenza il diritto ad essere riconosciuto di innocenza viene tolto e qui quindi bisogna pensare trovare la maniera di uscire dalla presunzione da questo malinteso della vittima bisogna tentare di ricreare di ricostruire diciamo dei discorsi emancipatori dei discorsi condivisi perché se no si rischia di creare un ulteriore deterioramento non solo del tessuto sociale ma anche del dibattito pubblico io direi che posso anche fermarmi qua e adesso tocco a tanto grazie scusate grazie a tutti a tutte per essere qua grazie alla società della ragione per avermi invitato e a voi tre che mi avete dato un sacco di spunti a cui non so se ovviamente riuscirò a rispondere ma magari mi ritengo per una riflessione futura del resto in questo periodo stanno non so come dire quando io allora cominciamo dall'inizio se volete io lavoro su queste cose da tantissimo tempo e in un certo senso questo librettino che come vedete è molto piccolo è una specie di non dico riassunto ma diciamo una sintesi non voglio dire neanche un bignami non mi piace però insomma una sintesi di cose da me non solo pensate ma anche scritte in questi ultimi in questi ultimi trent'anni e qui sono un po' condensate queste riflessioni forse la cosa più più nuova è diciamo la parte sul femminismo sul femminismo punitivo mettere tutte insieme però queste cose in un momento come come quello che stiamo vivendo adesso è stato anche per me un esercizio insomma un esercizio utile e devo dire che non so in questi ultimi giorni quello che è successo quello che viene detto per cui non c'è soltanto c'è soprattutto naturalmente questa terribile strage che è avvenuta sulle sulle coste calabresi e le terribili risposte che sono state date dal perfetto che adesso è ministro dell'interno io credo che sia la prima volta che abbiamo in Italia un ministro dell'interno che prima era un prefetto e non so come Mattarella l'abbia concesso altre volte aveva messo il va beh comunque chiaramente non è solo quello che pensa piante dosi è quello che evidentemente pensa una buona parte del governo e purtroppo io credo una buona parte anche dell'opinione pubblica e poi abbiamo il caso di di cospito il caso di cospito è il caso di una persona che è in sciopero della fame da quattro mesi e che ci si ostina a farlo rimanere in un regime che non era previsto per credo che sia l'unico dissidente politico l'unico politico che è stato messo al 41 bis perché voi ricordate ormai per fortuna c'è un altro caso cospito c'è la di ossa che da 20 anni ah vabbè appunto però sono due o tre quanti sono perché questo era un regime è un regime era un regime pensato per i boss i grandi boss della criminalità organizzata in modo che non potessero comunicare con l'esterno e dare ordine all'esterno era solo questo non doveva essere altro non doveva essere una ulteriore punizione oltre al calcio così è diventato eh ed è stato applicato anche a a uno diciamo non è che sia una brava una brava persona tra virgolette possiamo giudicarlo come volete nel senso che certamente ha commesso dei reati alcuni anche reati gravi non ha ammazzato nessuno e essendo anarchico non è il capo di nessuno ovviamente lo dice la parola stessa gli anarchici non ci hanno eh non ci hanno capi qui quello che lui dice e ha detto sono lette alcune lettere e così via eh sono cose che appunto lui ha sempre detto pubblicamente ha scritto eccetera ma questo era l'esempio per dirvi che c'è eh un incrudelimento diciamo di eh di quello che io chiamo la cultura punitiva in questo paese eh un incrudelimento eh ulteriore rispetto a come questa cultura punitiva si è eh diciamo sviluppata negli ultimi trenta quarant'anni perché io dico trenta quarant'anni perché c'ho un'età e mi ricordo quando eh quando si parlava di sicurezza si parlava di sicurezza sociale fino agli anni ottanta in Europa e novanta in Italia quando si parlava di sicurezza si intendeva sicurezza sociale sicurezza del lavoro e così via da dagli anni novanta in poi in Italia da prima in altri paesi sicurezza invece è diventata eh ha assunto un altro significato che era quello che dicevate tutte tutte per voi cioè quello di immunizzazione dei rischi di diventare eh vittime di criminalità comune criminalità di strada non è contemplata la grande criminalità non sono contemplate eh tutti noi come vittime dei reati ambientali delle guerre eccetera no questo no la sicurezza è un immunizzazione è intesa come la relativa immunizzazione di tutti noi persone per bene perché c'è appunto la narrazione il discorso divide tra persone per bene e persone per male noi persone per bene siamo tutte potenziali vittime delle persone per male e quindi che cosa si deve fare? si deve proteggere le potenziali vittime ossia tutti e tutte noi ma da cosa? dalla piccola criminalità dalla criminalità comune e soprattutto dalla criminalità che si svolge in pubblico che non si svolge nelle case per cui mentre da una parte la figura principe della vittima sono le donne no le donne sono vulnerabili bisogna tutelarne le donne i vecchi e i bambini sempre insieme vanno queste donne i vecchi e i bambini tuttavia le politiche di sicurezza sia quelle nelle città sia quelle che noi possiamo trovare nei vari pacchetti e decreti di sicurezza che sono andati susseguendosi negli ultimi dieci anni diciamo dieci quindici anni possiamo vedere che la retorica è quella di tutelare le persone più deboli dunque virgolette le donne ma in realtà le donne sono noi donne siamo certamente più facilmente minacciate all'interno delle sicure mura di casa al lavoro a scuola eccetera eccetera la vittimizzazione se vogliamo chiamarla così o comunque la violenza contro le donne è una violenza soprattutto quando è di tipo fisico che non avviene negli angoli bui delle strade deserte ma avviene invece nelle sicure mure di casa ad opera di quelli che dovrebbero essere i nostri protettori tra virgolette anche qui l'ambivalenza della parola protettori in italiano è molto divertente perché appunto i nostri protettori sono poi quelli che appunto ci minacciano ci uccidono eccetera eccetera una piccola parentesi tutta questa storia della sicurezza dobbiamo sapere che l'Italia se noi andiamo a vedere le statistiche giudiziari criminali è uno dei paesi più sicuri del mondo noi abbiamo credo l'anno scorso quanto abbiamo avuto 300 omicidi forse neanche metà dei quali erano per l'appunto femminicidi non esiste da nessuna parte forse noi e il Giappone non c'è nessuno nessun altro paese che è così tra virgolette sicuro perlomeno nell'accezione che di sicurezza danno i governi danno i sindaci e così via perché naturalmente poi invece sono molte le vittime sul lavoro le vittime appunto di violenza privata in casa eccetera eccetera di quello però quando si parla di sicurezza di solito si parla di sicurezza nel pubblico in strada in città e così via allora questa ehm dirò una cosa da un certo punto di vista banale perché è stata detta mille volte e allo stesso tempo è troppo generica ma diciamo che la cultura punitiva che ha preso piede anche in Italia e che però la vediamo non soltanto in Italia ma eh un po' ovunque nell'Occidente non parlo di altri paesi perché non li conosco ma sicuramente in tutto l'Occidente ehm è in qualche modo figlia della svolta neoliberale cioè il la la le politiche e quello che viene chiamato la razionalità neoliberale smantella tende a smantellare lo stato sociale cioè il welfare in nome della libertà in nome della libertà perché il welfare è stato accusato di essere eh paternalista di essere autoritario e certamente anche noi lo dicevamo questo perché il welfare dispiegato aveva un sacco di problemi che avevano anche a che fare con questo con il paternalismo l'autoritarismo eccetera però diciamo la svolta neoliberale che cosa fa aggredisce in primo luogo la spesa sociale le eh le politiche e le politiche sociali in nome per l'appunto della libertà e della responsabilità individuale ognuna e ognuna deve diventare responsabile di sé e delle sue scelte allora che cosa succede succede che una parte della popolazione forse ce la fa un'altra parte della popolazione non può farlo perché non ha la possibilità di accollarsi diciamo la l'intera responsabilità delle sue scelte se le scelte poi vanno a finire male poi ci sarebbe molto da dire anche sul concetto di scelta lasciamo per allora che cosa succede che cosa è successo è successo che in qualche modo si è passati da quello che è stato chiamato lo stato sociale a quello che è stato chiamato lo stato penale la eh cultura punitiva si afferma attraverso la mh l'uso insistito di quello che io chiamo il potenziale simbolico del penale in primo luogo da parte della politica dei governi anche dei eh dei governi locali che non avendo diciamo più o non avendo o non riuscendo a trovare a destinare risorse eh economiche sociali culturali al diciamo al welfare se volete governano attraverso la paura governano attraverso la divisione per l'appunto tra persone per bene e persone per male le persone per bene sono potenzialmente tutte tutti noi io credo che qui siamo tutte persone per bene eh credo non vedo persone per male nel senso che non vedo persone che sono così considerate eh per male cioè per l'appunto le persone che vivono in strada le persone che chiedono l'emosina ehm le ehm se voi andate a vedere cioè non tanto in questo libro qui ma nel libro che citavi tu contro il decoro se voi andate a vedere c'è stata una stagione in Italia che è stata chiamata la stagione delle ordinanze dei sindaci che è dal duemila duemila e nove duemila e dieci duemila e un in cui sono state come dire sfornate una serie di ordinanze per lo più molto simili una e le altre indipendentemente dal colore politico dei sindaci e forse anche delle sindache però non mi ricordo se c'erano anche sindache all'epoca in cui appunto si eh si si eh si cerca si vorrebbe si vorrebbe ripulire la città eh e soprattutto le zone di pregio della città da tutto ciò che può disturbare non solo noi persone per bene ma anche i turisti ricchi soprattutto quelli ricchi perché quelli poveri danno abbastanza fastidio e eh come dire eh ci sono ordinanze non si possono non possono mangiare panini in molti luoghi perché non si possono sedere né di qua né di là ci sono ma comunque voglio dire l'architettura mh ostile eh che è venuta in auge noi la vediamo con gli spunzoni sopra le panchine in modo che i poveracci non possano quelli che ci si stendevano non ci si possono stendere e così via e continua così continua così continua eh sia da parte di amministrazioni di centro-destra se vogliamo chiamarle così che da parte di amministrazioni di centro-sinistra attraverso diciamo tutta questa complessa anche narrazione che io qui non posso narrazione a un brutto termine però vabbè capiamoci eh si eh avviene quello che molti hanno indicato già e che io dico anche una depolitizzazione dei conflitti e una eh criminalizzazione dei conflitti stessi la criminalizzazione del dissenso noi siamo di fronte soprattutto negli ultimi sei sette anni a una eh insistita criminalizzazione del dissenso sociale e politico non è più accettabile ma non so cioè la criminalizzazione dei picchetti per esempio i picchetti di fronte alle fabbriche nella logistica e così via tutta la storia eh ormai ventennale se non di più del del treno dell'alta velocità in Val di Susa anche quello c'è stato se voi vedete c'è un pool c'è a Torino un pool di magistrati anti-TAV sulla TAV un pool di magistrati come il pool di di magistrati antimafia ma non vi sembra incredibile a me sembra assolutamente incredibile quindi la criminalizzazione del dissenso criminalizzazione della solidarietà e questo lo vediamo l'ultimo è piantedosi ma non è stato ma è per l'appunto l'ultimo eh abbiamo avuto anche Minniti non ce lo dimentichiamo ma anche prima di Minniti vabbè quindi c'è la criminalizzazione della solidarietà sia per quello che riguarda le ONG nel nel mar Mediterraneo ma anche per quelli che operano sulla ruta balcanica che è una delle più terribili tra l'altro no? Le persone come Lorena Cornazira il marito che sono state più volte eh diciamo eh denunciate per aver portato aiuto a quelle persone che cercano di arrivare in in Europa in questo caso in Italia attraverso la cosiddetta eh rotta balcanica e quindi naturalmente c'è ritorno alla questione della della tratta e del traffico io mi domando quanto di quello che noi chiamiamo traffichi in ottratta è dovuto al fatto che non che ci sono pochissime modi di entrare legalmente nei nostri paesi ricchi eh tra l'altro quelli che partono quelli che riescono a partire non sono i più poveri sono quelli che possono pagarsi il viaggio quindi non sono i più disgraziati fra i disgraziati tra virgolette scusate il termine sono quelli che un po' di soldi ce li avrebbero anche ma perché con il nostro passaporto noi possiamo andare dove vogliamo e loro no? Perché no? va bene eh perché no è inutile che ve lo spieghi perché lo sapete a me va bene eh naturalmente c'è una criminalizzazione della povertà hm i poveri sono divisi tra poveri meritevoli e poveri meritevoli se vi ricordate ne avremo ancora tutta la diatriba sul cosiddetto reddito di cittadinanza che certamente non è il reddito di cittadinanza universale pensato dalla appunto dall'associazione che l'ha inventato è un reddito è semplicemente una misura di eh soccorso alle persone più in difficoltà perlomeno in certi eh periodi e che eh soprattutto nell'ultimo periodo in Italia con la pandemia eccetera eccetera ha certamente permesso a molte persone di vivere un po' meglio non vivere meno ma qual è la polemica? La polemica è contro il reddito di cittadinanza è il reddito di cittadinanza fa sì che di scoraggiare le persone a lavorare se ne stanno seduti sul divano gli stesi sul divano diceva un noto esponente politico ehm adesso all'opposizione che prima ha fatto anche il presidente del consiglio da noi lo chiamava lo chiama reddito di criminalità perché sono poveri che potrebbero lavorare ma dove potrebbero lavorare? Che cosa potrebbero fare? Quando? se voi andate a vedere le nuove norme sul reddito di cittadinanza che varranno fino a che non lo tolgono del tutto bene ehm ti è concesso di non accettare la prima offerta alla seconda offerta che sia congrua o meno tu la devi accettare se no perdi il reddito il che vuol dire che se ti offrono un lavoro qualsiasi ha duecento trecento quattrocento chilometri da casa tua tu lo devi accettare se non lo accetti perdi il reddito sono misure punitive non sono misure e che appunto dividono tra poveri meritevoli e poveri immeritevoli come i vecchi tempi come nel cinquecento come nel seicento no? le politiche eh può lo inglesi avevano per l'appunto all'interno questa idea dei poveri meritevoli e poveri meritevoli che noi abbiamo riportato in auge prima con Blair e quindi anche con D'Alema eccetera eccetera e poi appunto in questo modo con il reddito di eh cittadinanza quindi criminalizzazione della povertà criminalizzazione del dissenso sociale e eh politico e eh e diciamo diffondersi nel profondo del senso comune di una ehm cultura per l'appunto che fa che vede nel penale l'unica e migliore soluzione per tutti i problemi e questo riguarda anche purtroppo una parte del femminismo non solo italiano naturalmente gli esempi che tu ricordavi quello che io faccio nel testo quello ehm rispetto alla al sex solo alla prostituzione o alla gestazione per altre sono esempi per l'appunto di quello che io chiamo femminismo punitivo e intendo per femminismo punitivo quei movimenti che in nome delle donne per la loro tutela e così via chiedono o nuovi reati o pene più alte per reati già esistenti quindi affidandosi anche questi movimenti a diciamo all'idea che il penale risolva allora io tanto per chiarire penso che la gestazione per altri e il lavoro sessuale o la prostituzione come vogliamo chiamarlo siano questioni complesse complicate non di facile eh approccio e che sono sempre hanno sempre diviso il femminismo sempre e non soltanto in Italia trovo tuttavia che intervenire su queste questioni attraverso la mannaia del penale non solo non risolva la questione cerca di semplificarla perché il penale semplifica in qualche modo ma non risolve la questione e si può vedere dalle ricerche peggiorano la vita delle donne che si vogliono invece che si vorrebbero invece tutelare oltretutto togliendo loro voice il che essendo io appunto anzianotta e tant'è che mi chiamano femminista storica immaginare la femminista storica io mi ricordo che noi abbiamo cominciato chiedendo la depenalizzazione dell'aborto bene com'è che si arriva dalla depenalizzazione dell'aborto alla richiesta di criminalizzare i clienti delle donne donne perché del resto non gliene prega niente delle donne che si prostituiscono e delle donne e non delle donne e delle persone che chiedono di diciamo che chiedono di avere un figlio attraverso la gravidanza per altri perché questo non queste non sono soluzioni purtroppo io vorrei capire appunto come si è arrivati a questo si può anche capire come ci si è arrivati naturalmente la mia è una domanda se volete è una domanda retorica però io vedo questa parte diciamo del femminismo come un femminismo che ha effettivamente tradito il nucleo libertario fondamentale che c'era e che c'è ancora in molto femminismo o che comunque c'era nel femminismo nel femminismo storico questa parte queste femministe appunto che io ritengo facciano queste cose e così via si come dire si si arrogano il diritto di parlare per le altre ciò che per noi era impensabile per noi femministe storiche era impensabile ognuna parla a partire dalla propria esperienza e parla per sé naturalmente in un collettivo le esperienze venivano messe in comune e da qui venivano fuori diciamo eh azioni politiche progetti eccetera eccetera ma non ci sognavamo di parlare per le altre non abbiamo sempre rifiutato l'idea che io posso parlare per te in quanto tu sei una poveraccia vulnerabile e vittima tanto che come dire quando le donne così ehm così definite così stigmatizzate vogliono parlare per sé sono messe a tacere gli viene detto tu sei semplicemente tu hai quello che in tempo si chiamava una falsa coscienza non capisci quello che è veramente bene per te ora io qui penso che le questioni siano molto complesse come dicevo prima che ci sia tutto un ragionamento da fare su ciò che significa libertà ciò che significa scelta e così via non c'è dubbio credo che moltissime donne soprattutto donne straniere perché la maggior parte sono donne straniere ormai in Italia che vendono servizi sessuali come dire farebbero altre cose se fosse possibile e se fosse come dire rimunerativo farlo però molte delle straniere non è che abbiano molta scelta fanno le badanti non è che guadagnino molto meglio o spesso neanche vengono trattate molto meglio dalle loro datrici di lavoro o comunque non è facile trovare un lavoro abbastanza remunerativo perché la maggior parte di queste donne poi manda i soldi alla famiglia e qui stiamo parlando non delle famose donne nigeriane ma delle donne dell'est che sono qui da noi magari stanno qui per un periodo fanno questo lavoro se non fanno le badanti e poi tornano se riescono tornano nel loro paese ciò che voglio dire è che ciò che voglio dire è che questo togliere la parola alle altre perché loro non dicono quello che vogliamo che dicano ecco questo mi sembra il contrario del femminismo allora io fermo qui mi fermo qui solo con voglio fare due esempi invece un esempio sulla sterilizzazione del territorio io abito sono una privilegiata io abito a Roma in in un quartiere che confina con la diciamo con il quartiere più multietnico così è chiamato di Roma ossia le squiglie piazza Vittorio non so se voi ci siete mai state è una zona che comunque come tutte le zone centrali o quasi centrali viene via via gentrificata è successo che negli ultimi dieci anni attorno nelle case attorno a piazza Vittorio si abbiamo comprato gli appartamenti le case chi? i grandi registi famosi del nostro tempo i quali tra cui Sorrentino che hanno firmato qualche tempo fa due o tre anni fa una lettera al comune per dire che era un sconcio che sotto i portici della piazza dove loro vivevano non potevano esserci quelli che vendevano roba per strada che non potevano esserci persone che ci dormivano eccetera eccetera e che tutta questa roba doveva essere bonificata ok questo è un esempio l'ultimo esempio invece che ha a che vedere con quello che dicevo prima cioè con il femminismo punitivo mi è capitato di leggere tutta una serie di commenti alla diciamo alle elezioni di Elislein a nuova segretaria del PD da parte di femministe che dicono lei non è una femminista non può dirsi femminista una che dice che è per l'utero in affitto così lo chiamano naturalmente e per la non criminalizzazione dei clienti della prostituzione come può essere una femminista vabbè ci sarebbe naturalmente potrei dire moltissime altre cose ma magari con le domande se volete grazie ci chiedevamo semplicemente visto anche questa conclusione suggestiva su due temi che possono diciamo sorgere riflessioni anche differenti se ci fossero delle domande se qualcuno dal pubblico volesse intervenire se posso e soprattutto se esiste una risposta abbiamo detto che indistintamente destra o sinistra soprattutto governi nazionali e governi locali hanno ovviamente ceduto a questa deriva securitaria allora se è comprensibile ontologicamente per forze politiche di destra lo è sicuramente molto meno per la sinistra posso comprendere che certi sindaci di piccoli paesi di provincia trovandosi in difficoltà con le risorse trovino più facile utilizzare il DASPO o qualche altro strumento amministrativo per tentare di risolvere problemi per i quali non hanno altre risorse di welfare però a un certo punto questa tendenza andrà invertita cioè bisognerà che a un certo punto qualcuno dica basta la sinistra torni a fare la sinistra e affronti i problemi per quello che sono nella loro complessità e ritorni a fare un discorso che appunto non sa di tintinnare di manette io non so quando questa cosa per la sinistra si è iniziata e non so ahimè come fare per invertirla perché nella mia personale esperienza di militanza politica non trovo molti compagni e molte compagne che siano disposti ad affrontare discorsi del genere perché tendenzialmente mi viene risposto basta la sicurezza non è un argomento solo della destra è anche un nostro argomento e quindi vengo liquidata in questo in questo modo con l'utilizzo appunto della sicurezza nel senso che dicevamo di cui abbiamo parlato finora se hai voglia di dare un contributo rispetto rispetto a questo cioè come si fa a stimolare menti e coscienze rispetto ad un ritorno alla necessità di affrontare la complessità dei problemi e dare soluzioni diverse se non altro per offrire ipotesi e suggestioni differenti anche appunto alle persone che poi alla fine devono scegliere tra opzioni politiche diverse io non sono una politica ma non posso certamente non posso rispondere a questa domanda se non dicendo in parte quello che ho già detto ossia da un lato rendere evidente rendere evidente che non abbiamo complessivamente in Italia un problema di sicurezza intesa in quel modo abbiamo un sacco di altri problemi anche altri problemi di sicurezza ma non questo in particolare questo e poi sempre bisogna domandarsi la sicurezza di chi chi sono quando si parla di sicurezza urbana chi sono i cittadini e le cittadine sono i residenti quelli che ci vivono quelli che ci lavorano quelli che ci dimorano in un modo o nell'altro allora le persone che chiedono l'emosina sono cittadini o no le persone che si andate a vedere le ordinanze le ordinanze sono sempre contro chi chiede l'emosina chi fruga nei cazzonetti chi i negozi i troppi negozi di di cibo cosiddetto etnico da ricordarsi anche che in altri paesi siamo noi il cibo etnico ovviamente e così via sono contro i migranti e le migranti per strada che danno fastidio eccetera eccetera questi non sono cittadini o cittadine allora invece la sicurezza è sempre declinata in termini di noi contro voi il fatto è che il noi diventa sempre più piccolo e il voi sempre più grande perché i processi di esclusione e marginalizzazione non è che eh diminuiscono semmai vanno avanti con politiche di eh di questo genere e non rassicurano nessuno c'è anche da dire che per esempio appunto il decreto sicurezza di Minniti che prima eh citavo cosa dice non parla di sicurezza parla di noi dobbiamo prenderci cura della percezione di sicurezza delle persone non della sicurezza ma della percezione di sicurezza certo se andiamo a dire tutti i giorni alla gente che qui è pericoloso che c'è che c'è per esempio ora appunto come vi dicevo io abito a Roma allora adesso c'è tutta una campagna dei giornali io li leggo anche la cronaca di Roma in cui si dice che tutti hanno paura della stazione Termini perché è una zona pericolosa perché ci sono i spacciatori ci sono quelli che dormono per strada ci sono milioni di persone passano annualmente per quella stazione i diciamo i reati le aggressioni eccetera sono in numero veramente piccolo tuttavia ovviamente questo tipo di discorsi fa paura alla gente io ti devo e io devo dire anche un'altra cosa che la percezione di sicurezza degli uomini devo tagliare con l'accetta non posso parlare di quelli fluidi quelli che stanno nel mezzo quindi parlerò degli uomini e delle donne come grandi categorie oppure persone che si identificano come uomini e persone che si identificano come donne come volete voi ad ogni modo la percezione di sicurezza è molto diversa è molto diversa tenete conto che se noi tra virgolette donne siamo meno vittimizzate per strada degli uomini perché questo è vero questo è vero si si vanno a vedere le statistiche la maggior parte dei derubati di quelli che finiscono le risse con violenza fisica eccetera sono uomini spesso giovani uomini noi donne perché no perché ci dicono fin da quando eravamo bambine questo è meglio che non lo fai stai attenta andare lì è pericoloso non andare da sola in giro di notte eccetera eccetera il che vuol dire che noi molto spesso neanche lo sappiamo ma ci autocensuriamo limitiamo la nostra libertà senza neanche rendercene conto ma questa è già una forma di privazione di libertà non ci permettiamo di fare tutte quelle cose che gli uomini giovani perlomeno non dico gli anziani ed è questa un'altra questione che non è mai non compare mai non dico nelle politiche nemmeno nelle ricerche spesso sulla questione criminale sulla questione della sicurezza che diciamo la la violenza almeno la violenza in pubblico quella che è più destra all'arma sociale è maschile gli uomini non hanno paura delle donne non in questo senso non hanno paura per altre ragioni ma non hanno paura di essere aggrediti dalle donne in città le donne sì continuamente noi abbiamo fatto una ricerca moltissimi anni fa eh all'inizio degli anni duemila per l'appunto in tre città dell'Emilia Romagna che erano Bologna Ravenna e Piacenza tre città sicure tutto sommato eh in cui appunto volevamo vedere la differenza volevamo vedere come si muovevano effettivamente le donne e che cosa abbiamo visto abbiamo visto una cosa molto banale abbiamo visto che le donne che diciamo traversavano il mondo e quindi la città con maggiore agio erano quelle che avevano le risorse economiche sociali e culturali per farlo prendevano rischi perché sapevano più o meno consapevolmente che se fosse successo qualcosa avrebbero potuto farci fronte ma abbiamo visto anche un'altra cosa che c'era una incomprensione da parte dei ragazzi abbiamo fatto due facosgruppe uno di questi facosgruppe era di ragazzi maschi che sembravano non capire dicevano io uno diceva io camminavo dietro una ragazza in una zona cittadina non proprio illuminata eccetera eccetera e vedevo che questa ragazza potevo vedere che questa ragazza aveva paura ma perché hai paura? diceva lui perché? perché in parte perché noi come dire abbiamo introiettato quello che ci hanno che siamo vulnerabili che siamo deboli che ci dobbiamo proteggere e soprattutto che la nostra sessualità è a rischio siamo sempre a rischio di essere aggredite sessualmente in parte è anche vero a vedere quello che succede comunque noi siamo state educate così e quindi ovviamente se io mi trovo in una strada con non tanta gente e sento che dietro ci sono due o tre ragazzi insomma un po' di preoccupazione me la me la sento quindi c'è una differenza appunto per dire semplicemente che in città c'è di tutto ci sono ma in primo luogo ci sono uomini e donne e quindi quando si parla di se si vuole proprio parlare di sicurezza io pur avendo fatto parte del progetto città sicure dell'Emilia Romagna all'inizio degli anni 90 sono sempre stata contraria però l'ho fatto lo stesso e questa ricerca di cui vi parlavo era parte di questo progetto città sicure se vogliamo parlare di sicurezza allora dobbiamo dire la sicurezza di chi dove per chi quando almeno si parte dalle domande e vediamo che risposte vengono date se c'è qualche domanda suggestione mi è tacitato mamma mia infatti la pubblica sarebbe bella per questo volevo un po' di invitare voi facciamo una presentazione a Bologna sono stati un casino di domande dal confronto con Bologna per campanilismo quantomeno giusto per sconfinare l'identità se non ci sono domande effettivamente salutiamo ovviamente ringraziamo tutti per la partecipazione e ovviamente i relatori per aver presentato il libro di Tamar Picci insomma che vi invitiamo ad acquistare se volete qui giusto perché c'è una serie di come dire qui palesata di testi grazie a tutti